Hanno ucciso tutti. Non meritavano questo. I cadaveri conducono verso il fiume. Spartani morti e altri lungo il fiume. Devo scoprire chi è stato. Come fanno i persiani a sapere chi sono? Uccisioni pulite. Questi persiani non si sono accorti di nulla. Guardie, devo essere sulla pista giusta. Il soldato scelto. Qualcuno l'ha raggiunto prima di me. Chi sei tu? Quella lava! Per favore. Grazie a tutti. 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 Padre, no! Nima, che stai facendo? È l'ombra dell'aquila. Lui è il tuo padre. L'ombra dell'aquila. Dobbiamo andare, Nima, arrivano altri soldati. Il nostro nascondiglio è sotto l'arco di roccia, raggiungici. E' la sua, è l'ombra dell'aquila. Chi sono queste persone? Hai attaccato l'ombra dell'aquila, poteva ucciderti Ora basta, è finita Pensiamo se... Non è il primo villaggio che attaccano, l'ordine sta diventando sempre più forte qui Una ragione in più per restare nell'ombra E lasciar morire degli innocenti In ogni caso, sono morti lo stesso Non puoi fare tutto da solo Dobbiamo fare attenzione, Mima, lo sai Villaggi in fiamme, soldati spartani che prendono ordini da persiani E un vecchio scorbutico che tende in boscate Non mi piace, voglio risposte, ora E tu come ci hai trovati? Gliel'ho detto io Ci sono altri segreti che vuoi condividere? Immagino sappiate che succede I persiani che hai visto comandare gli spartani L'ordine degli antichi Sì, una potente organizzazione segreta che agisce nell'ombra in Persia da tempo in memore Organizzazione segreta? Cominciano ad essere troppe Te l'ho già chiesto quando hai cercato di uccidermi Chi sei tu? Dario Non mi basta un nome Diggli di più Ci sono sempre state delle persone assetate di potere e controllo E c'è sempre stato qualcuno che si opponeva a loro E tu che tipo sei? Lascia che ti racconti una storia del grande re Cersei Inizia molti anni fa In Persia In Persia In Persia In Persia Nulla La vostra morte non significa nulla Nessuno può fermare l'ordine Nonostante la sua forza Non è riuscito a proteggerti Non da me È da allora che ci danno la caccia Non si incontra tutti i giorni qualcuno con una storia del genere E io non la racconto tutti i giorni Ma l'ordine Ora è qui Combatterli o scomparire Padre Padre Non è riuscito a prendere la sua forza Non è riuscito a prendere la sua forza No, no.